Grazie a tutti. Se può essere utile e per chi? Per le fasce di bambini che devono sottoporsi a vaccino antinfluenzale. Allora in generale la vaccinazione antinfluenzale può essere consigliata a tutti i bambini. Ovviamente per una questione anche di spesa sanitaria e di gestione dell'impatto economico attualmente fortemente raccomandate si dovrebbe fare soprattutto nei bambini che hanno fattori di rischio come si dice. Cioè bambini che abbiano malattie croniche, che hanno immunodepressioni, che hanno malattie respiratorie croniche che possono avere in seguito all'influenza delle complicanze significative. Questo a partire dai sei mesi di vita in poi. Non perché ci siano problemi a farle in bambini di età inferiore a sei mesi ma solo perché ci sono ancora pochi dati relativi alla vaccinazione in bambini così piccoli. Da sei mesi in poi nei bambini con fattori di rischio assolutamente sì. A questo punto colgo l'occasione anche per chiederle, nei casi in cui ci sono neonati che vengono allattati dalle mamme in questo caso l'allattamento materno garantisce una copertura immunologica diversa rispetto ai bambini allattati con latte artigiale? L'allattamento al seno o comunque l'allattamento con latte materno migliora molto la funzione immunitaria del neonato perché attraverso il latte passano degli anticorpi che peraltro sono anticorpi cosiddetti di superficie che quindi si stratificano proprio all'interno delle pareti dell'intestino e aumentano le difese immunitarie del neonato allattato al seno. Questo è scientificamente provato. Intanto devo ringraziare un gruppo su Facebook, un gruppo di mamme nato dall'intuizione di una mamma e anche della giornalista e blogger Benedetta Mafia che colgo l'occasione per salutare insieme a tutte le mamme. Ci hanno dato degli ottimi spunti che ovviamente le girerò per parlare di questo tema. Intanto parliamo dell'aggressività di questa influenza di quest'anno. L'aggressività sarà direttamente proporzionale alla circolazione del virus tra le persone? Allora, sull'aggressività ovviamente non si può dire ancora niente perché come giustamente ha detto il primo caso è di pochi giorni fa se non proprio degli ultimissimi giorni. L'anno scorso è stato abbastanza aggressivo perché sia in Puglia sia a livello nazionale ci sono stati una quantità di casi gravi importanti con una quantità anche di decessi sia a livello nazionale sia a livello pugliese. Per fortuna pochi nell'età pediatrica, che io sappia, se ricordo bene, c'è stato solo un bambino di 15 mesi l'anno scorso che è deceduto in seguito all'influenza, ma questo non sposta il discorso che facevamo prima perché l'influenza è certamente una malattia controllabile e gestibile nel bambino sano. Nel bambino a rischio assolutamente no e ovviamente il bambino a rischio deve essere protetto. Proteggerlo significa fare la vaccinazione dopo i sei mesi e far vaccinare anche i familiari che sono a contatto con questo bambino. Poi un discorso che facevamo prima e che è il caso di ribadire anche ai telespettatori è il discorso relativo a quanta più gente si vaccina. Se vacciniamo quantità importanti della popolazione ovviamente la circolazione del virus diminuisce e quindi diminuiscono di conseguenza anzi i casi gravi e anche i casi eventualmente mortali. Professore Forgia c'è da dire però che quando si parla di vaccini, in questo caso però parliamo di vaccini anti-influenzali, assistiamo come sempre ad una forma di criminalizzazione. Ricordiamo che solo l'anno scorso furono ritirati dal mercato due lotti in particolare di vaccini anche se poi le successive indagini scientifiche hanno rivelato che non c'era una connessione tra il decesso di alcuni pazienti e questi lotti. Ecco tutto questo crea un allontanamento dei possibili utenti dalla vaccinazione. Assolutamente sì. L'anno scorso c'è stato un problema serio di comunicazione che è stato legato sostanzialmente al fatto che eventi avversi che si sono verificati in concomitanza diciamo temporale con la vaccinazione sono stati to cure attribuiti alla vaccinazione stessa. Questo anche da una campagna diciamo di informazione che non è stata precisissima a fronte del fatto poi che la valutazione di questi casi ha dimostrato che quei casi mortali non erano legati alla vaccinazione ma a patologie dei soggetti. Parliamo di soggetti che avevano oltre i 70 anni, morbidità importanti come cardiopatie, come diabete, come una serie di condizioni. Quindi su questo bisogna essere molto attenti. È giusto segnalare qualunque evento avverso. Faccio un esempio. Io adesso esco di qua, prendo la moto, mi schianto contro un palo. È perché sono venuto a Telebari? Beh ci auguriamo che non accada. Allora l'evento avverso va considerato come correlazione temporale ma non come correlazione causale salvo che io non possa dimostrare che sia una relazione causa-effetto vaccino evento che è successo. Che è il problema delle reazioni avverse. Allora per la vaccinazione antinfluenzale come per molte altre vaccinazioni esistono delle problematiche febbricola dopo la vaccinazione, uno stato di malessere, un gonfiore con dolore nella parte dove viene fatto il vaccino, ma durano uno o due giorni e finiscono. Eventi seri legati alla vaccinazione antinfluenzale non ce ne sono stati l'anno scorso e ci auguriamo non ce ne saranno. C'è sempre il rischio di una reazione anafilattica, come si dice una reazione allergica a qualunque prodotto, a qualunque farmaco, però sono estremamente rare e quindi direi che non sono un motivo per non affrontare questo minimissimo rischio della vaccinazione a fronte dei vantaggi. Si fa nel momento in cui una mamma decidesse di sottoporre al vaccino antinfluenzale il proprio bambino, si fa un'indagine su eventuali forme allergiche del bambino? No, anche questa cosa è stata molto discussa e qualcuno ne fa anche un elemento per indagini che non sono assolutamente significative perché non c'è un modo di prevedere una reazione anafilattica a un farmaco. Per la vaccinazione antinfluenzale non è una controindicazione l'allergia all'uovo per esempio. Le uniche controindicazioni temporanee sono il fatto che il bambino abbia una forma febbrile, quindi si aspetta che finisca la forma febbrile, ma controindicazioni assolute al vaccino non ci sono. L'influenza come si cura? L'influenza come tutte le forme virali hanno cure sostanzialmente sintomatiche, come si faceva un tempo, si sta a casa, ci si riposa, si eventualmente usano degli antipiretici se la febbre è particolarmente elevata o se il bambino è molto spossato, molto abbattuto come si dice. C'è la possibilità di utilizzare farmaci antivirali per l'influenza come per altre patologie virali, ma non sono indicate nella stragrande maggioranza dei casi, quindi basta soltanto una terapia sintomatica. L'antibiotico dunque è bandito per la cura delle influenze, a meno che non ci siano complicazioni, quali? Allora l'antibiotico per definizione non è un farmaco che può cambiare il decorso delle forme virali e l'influenza è una forma virale come il banale raffreddore, come ricorderei vista l'occasione, più del 95-96% delle forme febbrili dei bambini dei primi anni di vita. I bambini dei primi anni di vita, soprattutto quelli che frequentano comunità, hanno infezioni virali, raffreddore, rinofaringite, che sono non modificate nel loro decorso dall'uso di antibiotici. Peraltro l'uso eccessivo di antibiotici può determinare la selezione di ceppi poi batterici resistenti che possono essere più difficili da curare e soprattutto alterano la flora batterica del bambino, quindi non vanno usati nelle forme di influenza o di raffreddore o di forme virali. È chiaro che se un bambino poi presenta delle complicanze che possono essere anche legate al fatto che l'influenza come le altre forme virali determina una soppressione delle difese immunitarie del bambino, sarà il pediatra a valutare se ci sono le indicazioni per una terapia antibiotica. Ci sono delle complicazioni che statisticamente si verificano con una maggiore percentuale in caso di influenze e complicazioni che devono destare allarme nei genitori? Penso le convulsioni però possono esserne... Allora le convulsioni che sono giustamente anche una delle paure della maggior parte dei genitori sono in genere fenomeni legati a una particolare sensibilità del bambino a qualunque alterazione virale o batterica che determini un aumento della temperatura febbrile. Quindi può succedere con l'influenza, può succedere con la faringite, può succedere con tante situazioni. In genere la problematica principale dell'influenza come è stato l'anno scorso e la polmonite, cioè un interessamento respiratorio importante. Se poi questo avvenga in bambini che hanno di per loro difese immunitarie diverse o si trovano in una fase particolare per cui sono particolarmente soggetti, questo è difficile dirlo. Ma torniamo al discorso di prima. Se un bambino ha delle patologie croniche deve essere assolutamente vaccinato perché rischia di avere una forma di influenza grave. Allora intanto si dice per cercare di prevenire quantomeno il contagio della malattia utilizzare le banalissime norme igieniche. Ovviamente questa è una partita persa con i bambini perché sappiamo assolutamente che questo non accade, soprattutto per chi va a scuola e negli asili. Allora quali sono le forme di prevenzione e soprattutto diamo anche un vademail sulla copertura. Bisogna coprirli troppo, troppo poco, farli uscire. Quando si possono far uscire i bambini e quando soprattutto si possono far rientrare in ambito scolastico? Come tutte le mamme sa bene che è impossibile non far ammalare un bambino nei primi anni di vita. Peraltro sono suggestive delle indicazioni che abbiamo dalla letteratura scientifica che prendetela con beneficio inventario questa informazione faccia anche bene ammalarsi nei primi anni di vita. Nel senso che si è studiato, si sta studiando qual è l'effetto sulle difese immunitarie di un bambino che si ammala più o meno regolarmente come tutti ci siamo ammalati nei primi anni di vita. Questo sembrerebbe indurre il nostro organismo a sviluppare un'immunità sana, cioè quella che combatte i virus, i batteri. Viceversa il bambino iperprotetto, il bambino che non si ammala mai, il bambino che magari mandiamo all'asilo a quattro anni, l'abbiamo tenuto in una campana di vetro, rischia, e questi sono dati significativi, magari di avere un'immunità che vira in senso allergico o in senso autoimmunitario. Quindi tutto sommato gestiamo i nostri bambini per le banali infezioni che si incontrano nel corso dei primi anni senza panico, aiutandoli con un po' di antipiretico. È chiaro che dopo tre, quattro giorni di temperatura febbrile o condizioni che possono essere sospette per problemi diversi, il pediatra deve valutare e deve intervenire. Esistono delle terapie efficaci che rafforzino il sistema immunitario dei bambini e li rendano in qualche modo più resistenti a infezioni batteriche e virali? Assolutamente no, nel senso che ci sono molte sostanze la cui attività di stimolo sulle funzioni immunitarie viene propagandata, probabilmente qualcuna di queste avrà anche un effetto, parlo per esempio dello zinco, della vitamina C, della propoli, dell'echinacea, ci sono tante queste sostanze. Se però andiamo a vedere i dati scientifici, non ce ne sono, nel senso che studi controllati, fatti in maniera seria, verificando se una terapia di un certo tipo e l'assenza di questa terapia in bambini che siano comparabili ha determinato un effetto, non c'è. Molto promettente sembra l'uso della vitamina D. La vitamina D che nel tempo cambiata come capacità di curare le malattie, prima era essenzialmente la vitamina antirachitica, oggi sembra avere un effetto molto importante proprio nel discorso delle difese immunitarie. Probabilmente quell'idea che noi abbiamo, soprattutto noi del sud, con il tempo buono, il clima adeguato, il sole, non dico sempre ma quasi, di avere sufficiente vitamina D va un po' rivista, tant'è vero che in molti casi, anche nella nostra neonatologia, noi consigliamo di supplementare con la vitamina D questi bambini quando vengono dimessi dall'ospedale perché sicuramente non crea nessun tipo di problema, ma può dare un vantaggio sulle difese immunitarie. Pensare che dando la vitamina D il bambino non si ammalai mai? No. Però sicuramente è un aspetto importante perché copre quelle che possono essere delle quantità di vitamina D probabilmente insufficienti, proprio per quel fatto che spesso si coprono molto, si fanno uscire di meno, quando escono non prendono la luce del sole, si è visto che anche nelle nostre popolazioni ci può essere un defice. Velocemente perché abbiamo ancora qualche secondo, i lavaggi nasali possono essere decodiuvanti nella terapia anti-influenzale? No, i lavaggi nasali sono la tortura del terzo millennio, vanno aboliti nella stragrande maggioranza dei casi, poi i pediatri possono decidere ovviamente caso per caso se è utile o meno, ma è veramente obrobrioso, fatemelo dire, che vengano addirittura consigliati nelle neonatologie al momento della nascita. Il bambino ha dei muchi, ha delle secrezioni che nella quasi totalità dei casi sono assolutamente fisiologici, andare a stimolare con questi lavaggi che sono torture per i bambini, anche una mucosa molto sensibile come quella del neonato e del bambinetto di pochi mesi, credo che meriti di consegnare al bambino il numero del telefono azzurro e farli chiamare il più presto possibile. Allora per chiudere, magari destineremo un'altra trasmissione, un capitolo a parte ai vaccini, però un'ultima domanda, c'è un'interazione o comunque un elemento di disturbo può rappresentare il vaccino antinfluenzale per gli altri vaccini cosiddetti obbligatori? No, questa è anche un'altra notizia, non notizia, che spesso spaventa le mamme, facciamo sei vaccini insieme, addirittura anche l'antinfluenzale, stimolare l'organismo del bambino con sette, dieci antigeni, perché sono quelle sostanze che stimolano le difese immunitarie, quando quotidianamente siamo stimolati da centinaia di antigeni, è proprio il re ips, come si dice, che non rappresenta nessun tipo di rischio, nessun tipo di problema, si può tranquillamente fare. Allora, chiudiamo dicendo, prima di pensare alla cura dei nostri bambini, pensiamo alla cura delle ansie delle mamme, forse faremo un passo in avanti. Allora, siamo in chiusura, non mi resta che ringraziare il primario di Neonatologia e Terapia Intensiva del Policlinico di Bari, grazie Nicola Laforgia, grazie per essere stato con noi, grazie a voi per averci seguito, come sempre l'appuntamento torna più tardi, arrivederci.